La settimana in commissione Consiglio delle autonomie locali In settimana la commissione bilancio ha licenziato il documento di programmazione economico-finanziaria e ha proseguito l'esame del disegno di legge sulla semplificazione amministrativa. L'assessore ha relazionato in commissione cultura sul Museo Nazionale del Cinema e su Film Commission, mentre in sanità è proseguito il dibattito sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Si è discusso di consumo del suolo nella riunione congiunta di urbanistica e ambiente di agriturismo in commissione agricoltura. La commissione bilancio ha concluso l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria della regione Piemonte. Il provvedimento delinea un'analisi dello scenario economico e delle prospettive di medio periodo, definisce il quadro delle risorse disponibili, analizza le tematiche connesse alla nuova programmazione dei fondi strutturali europei e recepisce le indicazioni del piano di riequilibrio finanziario. Il CAL, Consiglio delle Autonomie Locali, il 29 gennaio ha esaminato il piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori e il disegno di legge che prevede misure straordinarie ai comuni per l'emergenza abitativa. I rappresentanti degli enti locali piemontesi hanno poi affrontato le problematiche legate alle risorse assegnate alle province per l'esercizio delle funzioni. Grazie per la visione!